L'Avantera, Paiuca. Allora Mario, il palo colpito dal novantonesimo contro la RMS Casa Giove, a capire la tua voglia di realizzare quanto prima la rete in maglia Granata per un campionato bello a competitivo come quello di eccellenza. Sicuramente, poi il pubblico di casa, diciamo io sono cresciuto, lo dico sempre, in questo campo, in questa città, quindi per me è un onore in più indossare la maglia Granata. Sono contento di come sta andando tanto le cose, perché comunque abbiamo 14 punti, c'è una grande euforia, abbiamo un pubblico che ci sta vicino, una società solida che non ci fa mancare niente e penso che ci sono tutte le carte in regolo per poter fare bene. Abbiamo dei giovani che stanno dimostrando di essere validi, chi gioca, anche chi non gioca, comunque l'allenatore li sta gestendo nel migliore dei modi, perché non ci sono scontenti, ma alla fine è veramente un gruppo unito. Un pensiero lo voglio dedicare anche agli amici di Sessa, che purtroppo stanno passando un brutto periodo e anche la società mi diceva che vogliono fare un gemellaggio con loro quando vengono a Mondragone, perché nonostante che i risultati non vengono, spero che anche loro troveranno la strada giusta, perché comunque è un paese che ci è vicino, sono amici, quindi spero che anche loro troveranno la giusta strada per rimettersi in gareggiata. Poi sono più che sicuro che ci possiamo togliere qualche soddisfazione, perché questa squadra è una squadra compatta, unita. Io dico sempre la verità che poi è quella, ci dobbiamo salvare. Salvare significa che noi dobbiamo giocare partita per partita, rispettiamo il Casalnuo domenica, che sono sicuro che non troveremo una squadra facile, perché loro vengono comunque dando dei risultati negativi, quindi dobbiamo stare concentrati, andare là e fare la nostra giusta partita, sempre nel rispetto degli avversari, dimostrando sempre quello che questa squadra sta dimostrando nell'ultimo periodo che ha dei valori importanti. Il Mondragone è la favola bella del campionato, l'abbiamo sempre dichiarato, Mario, ci conosciamo da tanti anni, posto ideale per fare calcio, mare, montagna, al di là della categoria c'è la voglia di far bene. Quest'anno sono tutte le premesse, una tribuna gremita in ogni ordine di posto, donne e bambini che un po' era il nostro sogno quando ci siamo conosciuti, l'abbiamo sempre detto, vorremmo che la tribuna fosse sempre piena. Quest'anno stiamo realizzando questo sogno, grandissimo fair play e lo dico al di là del risultato finale, si singe la mano all'avversario, queste sono le immagini belle del calcio Mondragone. Ma questa è la prima cosa che quest'anno si evidenzia, perché come ho sempre detto abbiamo famiglie, bambini sul campo, abbiamo una società di imprenditori locali che rispondono bene anche per quanto riguarda gli sponsor, perché comunque sono persone per bene, persone che se chiedono una mano la gente sa a chi dà la mano. Abbiamo vari presidenti, i presidenti del Prede, il presidente Lambidillo, il presidente Fili, ce ne sono tre o quattro, un po' quelli più, gli azionari maggiori che comunque sono presenti in tutto. Se un ragazzo ha un problema loro lo risolvono anche questa calcista e questa è proprio la favola bella. Il direttore del Prede ha dimostrato di essere un conoscitore di calci, perché alla fine, anche se all'inizio c'è stato qualche problemino con i risultati, alla fine lui era convinto che questa squadra uscisse fuori ed è uscito fuori, quindi si vede anche la competenza della sua mano, che i giocatori che lui ha voluto personalmente insieme alla società, oggi ci sono tanti giusti risultati, quindi io penso che c'è un mix che poi ci può stare sempre la persona deleteria, perché quello là si sta in tutti i paesi, ma io penso che con questa società il deleterio si fa fuori da solo. A questo punto io penso che questa qua, come hai detto tu, è una sorpresa e una favola bella, però come tutte le favole bisogna essere attenti sempre con i piedi a terra, perché noi comunque adesso abbiamo un trittico di partiti che non è da me, abbiamo tutte le squadre importanti, abbiamo il Casanovo che per me è una partita difficile, poi abbiamo la Sessana in casa, poi abbiamo il Savoia, abbiamo 3-4 partite prima di Natale che dobbiamo stare veramente concentrati e con i piedi a terra. Io sto riprendendo la giusta condizione, il gruppo come ti dicevo c'è, io sono sempre più convinto che qui ci sono tutte le carte in regola per poter fare bene, l'allenatore sta dimostrando di essere all'altezza e sta facendo dei risultati importanti. Ci sono tutte le carte in regola, io spero che si continua così, ma sempre con la massima umiltà e sempre pensando che ci dobbiamo salvare.